è l'ora è l'ora di diventare persone serie dopo questo fuori onda andare in onda prima cosa prima cosa che voglio chiedevo che devo e che voglio fare ringraziare davvero toni che ha dato questa disponibilità in coda a una volata calda e prima delle vacanze e mi piace finire la serie delle conferenze dell'istituto e delle occasioni di connessione per i società visual contoni che ha a mio avviso fra fra le tante fra le tante caratteristiche positive quella di sapere di di essere una fusione di pensiero lucido e di pensiero orizzontale fasi pensiero diffusivo perché il pensiero lucido aiuta a capire e fare capire le cose e il pensiero orizzontale aiuta a generare domande e risposte non banali ma creative è facile trovare persone molto lucide e facile trovare persone cioè facile è più facile trovare persone lucide o creative ma lucide e creative è una è una caratteristica sinergica che amo tantissimo in toni bene ti ringrazio moltissimo ti rimprego e oltre a rimpregarti ti passerei la parola anticipando ai colleghi noti e ospiti che prima toni fa una tecchiata di fondo e poi a seguire apriamo la discussione e queste nel lancer e l'interfaccia ok allora io ho preparato un piccolo qualche piccola slide la mia passione è il linguaggio fotografico forse la mia musa ispiratrice in tutto diciamo nel mio percorso di fotografo di fatto è stata la fotografia qualche volta in qualche intervista siccome sono stato sono anche un fotografo di celebrity o è di moda qualcuno mi ha chiesto ma qual è stata la tua musa no e io ho detto ma la mia musa alla fine mi rendo conto che è la fotografia cioè mi interessa sviscerare quello che sono le possibilità linguistiche della fotografia per questo diciamo una cosa che faccio anche perché insegno in vari realtà e ho una serie di corsi adesso non voglio fare la pubblicità ma insomma ho sviluppato nel tempo un diciamo una chiave didattica su queste tematiche quando diciamo roberto mi ha chiamato per per questa per questa conferenza io ho detto ma se facciamo piuttosto domande rispondi eccetera eccetera poi tra insomma parlandone un po' è venuto fuori che magari invece appunto fare un'introduzione sul linguaggio della fotografia poteva essere un po' meno appunto cazzeggiante è un po' più significativo per cercare poi di sviscerare dopo aspetti diciamo meno superficiali e più legati proprio a queste tematiche cosa altro posso dire è una cosa molto breve sulla quale io parlerò se volete chiedermi delle cose assolutamente chiedetemelo poi quando magari abbiamo finito e cerchiamo magari di approfondire queste tematiche quello che adesso cosa faccio condivido lo schermo ok vado io vado dove caspita eccolo qua ok lo condivido e poi lo condivido subito subito in questo modo ok perfetto sei in presentazione ok allora alle fondamenta del linguaggio fotografico istruzione per l'uso un po' un modo di per me soprattutto in questi tempi diciamo digitali e soprattutto per i più giovani che sono collegati e di cui alcuni magari sono addirittura nativi digitali mi sono reso conto nel tempo con i miei assistenti o con i miei studenti che la tecnologia digitale ha un po' cancellato quello che una volta era un percorso cioè le fondamenta che un fotografo doveva in qualche modo scavare per poi costruire il suo bel grattacielo la sua bella villetta la sua bella il suo bel condominio no in termini di come potrei dire di carriera eccetera quindi la tecnologia digitale ci ha portato ad ottenere immediatamente dei risultati buoni diciamo interessanti o comunque le foto in un'altra parola vengono ok e questo ha portato a forse a sottovalutare che quando costruisci una casa devi avere come dire devi fare un buco prima ed andare alle diciamo alla base di tutta la faccenda allora io faccio qua una specie di ripasso secondo me perché io ho individuato alcune cose che secondo me è interessante riprendere in mano sia che si sia se abbiamo iniziato a fare il fotografo da sei mesi sia come me lo abbiamo lo facciamo da quasi 50 anni no 45 allora io qua dico la fotografia per sua ognuna di queste cose poi le possiamo anche confutare per carità comunque io dico la fotografia per sua natura è un linguaggio che si confronta con la realtà ok perché mentre diciamo la pittura possiamo spruzzare fare cose si confronta con la realtà come dire pratica della pittura ma non per forza con una realtà la fotografia per sua natura è portata a confrontarsi allora noi abbiamo secondo me in realtà solamente tre modi di affrontare questa realtà oppure una combinazione di questi tre modi però è secondo me è interessante vedere come rispetto al mondo e a quella piccola porzione di mondo che è la nostra scelta fotografica perché noi per quanto facciamo una fotografia panoramica sarà sempre più quello che escludiamo che quello che includiamo no quindi la fotografia è già una maniera di escludere cose da quell'inquadratura quindi quello che includiamo diventa estremamente significativo per noi perché abbiamo deciso di includerlo ecco che mi suona al citofono arrivo subito è molto significativo per noi perché lo abbiamo incluso quindi eccoci qua allora è cogliere l'attimo senza modificare la realtà questa è una fotografia di Enrico Cartier-Bresson che diciamo di questa di questo atteggiamento di questa attitudine è un po' il capostipite o il caposaldo quello che più ha come dire elaborato questo atteggiamento la foto che vediamo ho presa una un po' simbolica diciamo di questo atteggiamento è notorio che Bresson che Bresson fotografava con un obiettivo normale e eh fotografava grazie pensa ciao hai sai se è aperto su ok eh scusatemi ehm fotografava senza modificare con la sua presenza ciò che succedeva anzi ci sono dei 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 filmati di Bresson dove noi quei quei rari filmati eh che esistono eh che esistono su di lui che lavora eh lo si vede proprio che si nasconde in un certo senso no cerca di fotografare senza essere visto perché perché questa scena che noi vediamo in questa foto succederebbe anche se Bresson non è lì a fotografarla ok quindi la faccenda dell'istante è un atteggiamento decisivo è un di più diciamo al 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 vero atteggiamento al al vero atteggiamento di base che ha alla base scusatemi di questa foto che è fotografare una realtà senza interferire ok quindi questa è una delle cose questa tra l'altro eh eh ma dopo ne parliamo eh la seconda la seconda possibilità il secondo atteggiamento possibile che noi abbiamo è invece l'esatto opposto cioè modificare la realtà con la propria presenza e qui abbiamo un esempio William Klein che viene appunto eh spesso appunto eh posto agli antipodi di Bresson per vari motivi ma specialmente per questo cioè eh Klein in gran parte del suo lavoro specialmente nel suo primo lavoro eh si getta capofitto nella realtà modificandola con la sua presenza per fare questo utilizza per esempio delle ottiche corte molto corte eh perché naturalmente la prossemica le leggi della prossemica ci dicono che se noi andiamo molto vicino a qualcuno diciamo tra virgolette eh quella persona non può che o andarsene o rivolgersi a noi o rivolgere la la propria attenzione su di noi quindi eh questo è il secondo atteggiamento eh della fotografia rispetto alla realtà eh c'è un una terza via eh che dice la realtà in fotografia in fotografia non è altro che ciò che ciò che pensiamo di essere cioè noi di fatto non fotografiamo mai la realtà se non ciò che noi elaboriamo della realtà ok? Ed è diciamo questa è una foto di Mulas e io uso spesso Mulas come eh diciamo esemplificativo di questa di questo atteggiamento perché per esempio lo cito eh lo cito eh specificatamente con questa fotografia che contiene totalmente questo 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 questa questa filosofia eh linguistica questo è un ritratto di un artista che si chiama Mario Ceroli e questo artista ehm faceva fa forse o faceva eh come opere delle sagome eh di legno ok? ritagliava e ritagliava queste sagome di uomini eh nel legno grezzo. Ora quando Mulas viene mandato a fotografare o va a fotografare Ceroli fotografa l'ombra di Ceroli contro una palizzata e eh come dire utilizzando uno specifico della fotografia cioè l'esposizione espone per le ombre invece che per le luci ok? Fa una scelta tecnica che diventa eh linguistica e cosa succede? Fa un Ceroli di legno cioè interpreta utilizzando il linguaggio della fotografia interpreta l'opera e le caratteristiche somatiche dell'artista per farne una cosa sua una cosa diciamo anche discutibile in fondo cioè non gli basta la faccia di ceroli non gli basta cogliere ceroli in un certo particolare momento o non gli interessa fotografare ceroli che si rivolge a lui in quanto sono lì insieme a fare una foto quanto gli interessa sviluppare eh su di ceroli un suo pensiero che utilizza eh il linguaggio fotografico. il fondo bianco quindi abbiamo visto tre atteggiamenti su rispetto alla realtà ciò che penso della realtà modificare la realtà cogliere la realtà senza modificare poi entriamo invece nell'idea del ritratto no? eh l'idea del ritratto eh l'idea del ritratto qua uso una fotografia di Avedon eh su bianco molti hanno usato il bianco anche prima di Avedon forse lui è quello che diciamo lo ha reso a status anche per la sua eh amore per il teatro per la teatralità eh come dire lo ha usato eh come dire lo ha usato eh nelle suoi estremismi diciamo del bianco ma il bianco a me interessa perché il bianco poi può diventare anche grigio poi può diventare anche grigio maculato poi può diventare anche nero quello che mi interessa quello che mi interessa è che simbolicamente il bianco è come la tela bianca del pittore no? cioè è eh diciamo il luogo fotografico dove il fotografo non trova piglio no? eh no no come dire deve in un qualche maniera eh sfidare la sua capacità di entrare in un rapporto anche di potere con il soggetto cioè in una qualche maniera ad armi pari perché dobbiamo ricordarci che per esempio fino adesso il fotografo è straordinariamente armato rispetto alla realtà no? perché cos'ha? ha la macchina fotografica che gli altri non hanno che è questo Avedon c'è lo ha insegnato eh perché è stato il primo fotografo a porsi diciamo allo stesso livello del potere ok? eh perché eh lui ci dice che il fotografo ha un ha un enorme potere perché ha il potere del linguaggio ok? ha il potere di dire quello che del mondo vogliamo vuole salvaguardare ok? la fotografia è un mezzo per esplorare mondi ok? allora sì credo di sì eh credo di sì e eh ma quali? allora anche qui eh ho fatto un po' di ragionamenti e sono arrivato a scoprire che praticamente ci sono solo tre mondi che possiamo esplorare con la fotografia il proprio mondo è semplice ok? il proprio mondo questa è una fotografia di Nan Goldin può essere questo diciamo eh East Side degli anni Ottanta a New York oppure può essere questo di Tina Barney eh negli Hamptons ok? quindi un mondo underground e un mondo invece totalmente borghese che viene raccontato da due fotografi che di quel mondo fanno assolutamente parte cioè questa sono gli amici di di eh questa è la famiglia di Tina Barney e questi sono gli amici di Nan Goldin quindi come dire la prima cosa che forse possiamo fare quando prendiamo in mano una macchina fotografica interrogarci su quale mondo andare a scoprire a a a sviscerare e eh loro eh entrambi in tutta la loro carriera non fanno che parlare del proprio mondo cioè è il tema dominante di tutto il loro interesse loro due Goldin e e e Bani come moltissimi altri eh poi secondo mondo che abbiamo possiamo esplorare un mondo interiore un mondo eh fatto come dire di quelle immagini eh oniriche più o meno oniriche che ci abitano ok? E qui eh uso l'esempio di una immagine di Dwan Michael eh self portrait as I wear the dead cioè un altro ritratto eh di me morto che anche qui è straordinariamente semplice nella sua realizzazione tecnica eh è una semplicissima sovrapposizione esposizione o doppia esposizione si vede addirittura il il pezzo di scotch là in alto sopra la testa di Dwan Michael quello diciamo vivo eh che probabilmente lui ha messo per eh comporre l'inquadratura quando si è messo a eh fare questo gioco ora naturalmente questa fotografia noi capiamo benissimo che è un trucco cioè che lui non è morto che non c'è nessun fantasma ma è questo lo straordinario potere della fotografia e soprattutto la fotografia che si rivolge a un mondo interiore cioè di utilizzare eh il dato della realtà eh il muro il suo appartamento in New York se stesso per trasmette un'immagine che indubbiamente possiede una carica eh emotiva interiore è una carica eh come dire psicologica mi verrebbe da dire e poi il terzo mondo che possiamo esplorare è l'altro mondo e qui come dire ci viene in soccorso la NASA no? perché cosa succede? Cos'è l'altro mondo? È quello che noi a noi fotografo o persona ci è sconosciuto ma è anche quella cosa quel mondo che non avrebbe senso andare a cercare senza macchina fotografica perché mi spiego se adesso noi non ci interessa tanto sapere se questi sono andati sulla luna veramente o no perché ci sono mille teorie una cosa è certa che mai sarebbero andati sulla luna senza portare una macchina fotografica cioè voglio dire che nel caso della luna è quasi importante l'asselblad che hanno portato su che non il missile che li ha portati su perché del missile non ce ne frega un cazzo non sappiamo cos'è e non sapremo mai guidarlo ma la macchina fotografica era come dire fondamentale per raccontare questa esplorazione di questo mondo ok? quindi l'altro mondo cioè il terzo mondo cioè il terzo mondo che la fotografia ci permette di esplorare è il mondo tra virueti simbolicamente più lontano possibilmente da noi e possibilmente in quanto fotografi un mondo che non avrebbe senso esplorare se non con una macchina fotografica alla fine di questo percorso io qua scrivo qualsiasi sia la fotografia che vogliamo intraprendere noi useremo uno di questi tre approcci o una loro combinazione per esplorare uno di questi mondi o una loro combinazione io trovo interessante questo perché a divenire diciamo questa consapevolezza mi ha straordinariamente aiutato nel mettere ordine in un qualche modo in tutti quelli che sono i pensieri che il fotografo, l'artista, il professionista come dire rivolge a se stesso è la propria opera per capirla e quindi per capendola per diciamo promuoverla e raccontarla al meglio allora ho detto ma io quelle robe lì le ho fatte cioè mi sono chiesto perché se no finì a una certa ora io dico vabbè ho finito poi dico bah senti è un po' cortina allora dico facciamo voglio fare un esperimento non l'avevo mai fatto cioè le ho fatte io queste foto che foto userei del mio lavoro per raccontare questo assunto teorico no su questi tre atteggiamenti questi tre mondi allora ho tirato fuori intanto queste due la prima a sinistra una foto abbastanza diciamo famosa è stata usata è stata usata in tutte le salse ed è sicuramente una fotografia di una di qualcosa che sta succedendo e che io di cui io colgo un attimo diciamo decisivo decisivo in quanto in termini di energia decisivo in termini di i diagonali decisivi in termini di equilibrio della ragazza che dopo un istante crollerà dalle spalle di quello che lo teneva su e di fianco ho messo invece appunto un'altra foto che viene da un mio lavoro del 74 sui bambini di pioltello dove appunto invece utilizzo l'approccio diciamo di entrare prepotentemente nella realtà e nella mia relazione con il soggetto a costo di modificarlo e come diciamo esempio che mi riporta forse anche perché è un artista come come ho portato l'esempio di Mulas con Ceroli questa fotografia di Kate Haring dove come dire tutta la fotografia viene pensata a priori come dire per permettere a Kate Haring di dipingere su un enorme vetro blindato in modo che io possa fotografarlo come diciamo come icona dei suoi stessi personaggi cioè volevo che non so l'uomo con la radio quello che erano i suoi tipici personaggi di Haring attraverso la trasparenza lui potesse diventare animare questo suo questo suo personaggio iconico quindi diciamo una foto pianificata in termini di pensiero e anche qui il bianco simbolicamente ne abbiamo forse già detto è un territorio infinito delle possibilità in fotografia è dove la realtà viene creata e scritta con il soggetto di questo poi se vorrete ne potremo sviscerare visto che appunto ci sono stati anche forse precedenti forse precedenti sui termini del ritratto cos'è chi l'ha inventato che cazzo che cosa serve e come ci si guadagna di vivere attraverso questa realtà io dico appunto è dove la realtà viene creata e scritto con il soggetto qua ho scelto questa foto perché perché come dire Lorenzo ho portato in tutta la sua appunto energia con tutto il come dire in tutta la sua forza energetica ma anche poi ho portato un'altra foto che è di questa diciamo una mentre la prima è stata questa è stata una copertina di Rolling Stone questa è stata invece una fotografia qui è esposta una mostra alla fondazione fotografia di Modena dove adesso qui quello che voi vedete è una petta morta ma nella foto perché se non si vede niente ho dovuto un po' ingrandirla l'opera vera e propria era un'enorme foto bianca con la petta a formato vero naturale quindi in un certo senso quello che mi interessava in questo sudario bianco era che per capire che cosa c'era in questa foto dovevi avvicinarti e scoprire tra virgolette la morte dell'ape ok quindi diciamo una specie di necessità o di possibilità della fotografia di farti scoprire ok attraverso le sue dimensioni e i suoi linguaggi una tematica anche interiore profonda che tutti noi portiamo con noi che è quella della morte e che ha molto a che vedere con la fotografia anche il proprio mondo adesso stiamo già esplorando i mondi proprio mondo il primo mondo che dovremmo esplorare con la fotografia le nostre radici la nostra storia personale e alle fondamenta della nostra espressione artistica e professionale io ci credo ci credo perché nella mia esperienza tutto quello che ho fatto allontanandomi come dire dal mio mondo dal mondo diciamo che ha permeato la mia crescita sia come fotografo che come uomo mi ha sempre depistato portato fuori strada per questo mondo ho utilizzato una foto di un lavoro del 77 su questi miei tre amici di Quartogiaro dove avevamo messo diciamo in scena in un qualche modo il nostro mondo il mondo quindi un lavoro un po' antropologico in quanto veniva come dire realizzato insieme al soggetto quindi questo poi invece parlando sempre di questi altri mondi che possiamo esplorare il nostro mondo interiore è popolato da immagini sogni alle volte incubi ma anche desideri e fantasie nella realtà troviamo a volte uno specchio che ce le restituisce ho scelto qua una foto pubblicata in un mio libro che si chiama Transfer come dire indubbiamente non è altro che la che diciamo la statua di un in un cimitero ma la sua fissità evidentemente per me diciamo non pretendo che lo sia per tutti mi ha messo in contatto con qualcosa che mi riguardava interiormente non esteriormente nella realtà io non conosco la persona di cui è questa tomba ma questo ragazzo con la sua giacchetta questo uomo di pietra questo ragazzo di pietra evidentemente ha suscitato in me un transfer appunto e ho desiderato fotografare poi ognuno di noi può decidere di usare la fotografia per partire alla scoperta di un altro mondo un mondo sconosciuto un mondo che la fotografia ci aiuterà ad esplorare capire e testimoniare e qui ho messo la foto della mia prima figlia era piccola 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 e alla fine dovendo scegliere un mondo altro specialmente appunto 30 anni fa quando lei è nata ho intuito che per me l'importanza di fotografare mia figlia appena nata con un grande banco ottico 20-25 con i flash con le luci e tutto fosse dovuto a un desiderio di partire all'esplorazione della mia paternità e della mia relazione con questo mondo sconosciuto perché non c'è niente di più sconosciuto dell'altro appena nato ok e quindi per me invece che la luna il mio altro mondo ho voluto diciamo raccontarlo attraverso questa foto allora diciamo qua finisce un pochino questa cavalcata dentro questa mia visione personalissima mi rendo conto delle tematiche che stanno alle fondamenta del nostro modo di usare la fotografia e che credo sia importante ogni tanto come dire riprendere in mano perché la faccenda è molto più semplice di quello che spesso pensiamo ed è molto secondo me importante come potrei dire interrompo la condivisione è importante come dire partire da delle basi solide sulle quali costruire il nostro percorso per questo più che per un diciamo un mio ego ho voluto alla fine mettere qualche foto mia non per dimostrare come quell'assunto di partenza poi l'ho puntualmente ritrovato nel mio lavoro ma a posteriori ieri pomeriggio nel dire ma anch'io faccio questo e alla fine il mio pensiero è che tutti inevitabilmente facciamo questo come lo facciamo come misceliamo gli ingredienti come se fossimo dei cuochi no che preparano un piatto gli ingredienti sono questi come li misceliamo sta a noi in modo da ottenere come dire qualcosa di mangiabile quindi non so forse comprensibile grazie adesso la domanda è c'è qualcuno che vuole la mia domanda è si è capito qualcosa chiediamolo a chi mastica a chi mastica fotografia ecco l'oliviero ciao oliviero hai il microfono spento non ti si sente oliviero hai il microfono spento comunque involgetemi subito io sono tutto qui perché sono qua bene perfetto ciao caro ciao oliviero ciao stai bene sì sì grazie volevo sentire volevo sentire bene 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 ci sta ci sta grazie di esserci figurati piacere allora dunque no stavamo dicendo si è capito ha senso può servire Marco Fossen vuol dire qualcosa io alzo la maniera anch'io vai Marco no allora si è capito benissimo è stato chiarissimo però volevo fare un'altra domanda partendo da una frase che ho trovato su uno dei suoi corsi ovvero sia io non insegno fotografia attraverso la fotografia promuogo l'unica vera necessità di ogni autore accettare se stesso che vuol dire allora sì guarda ti ringrazio di questa domanda tra l'altro io volevo mettere questa frase come chiusura poi dopo ho detto vabbè rilassati cioè evita di egocentrizzare troppo la faccenda allora no io diciamo questa è un po' la mia missione cioè nel tempo mi sono reso conto che il più grande ostacolo alla nostra capacità di esprimerci siamo noi stessi perché perché viviamo costantemente spesso non tutti fortunatamente magari qualcuno ne fa meno viviamo in un continuo sabotaggio di quello che noi siamo di quelli che sono i nostri desideri di quello che è il nostro modo di vedere io insegno da tantissimi anni anche quando onestamente non ero granché come insegnante ma una cosa ho potuto vedere cioè che tutti noi noi abbiamo un DNA visivo X cioè è quello come una specie di curva come una specie di algoritmo adesso è una parola che si può dire o non lo so e ce l'abbiamo ma spesso riteniamo che questo nostro modo di vedere non è all'altezza quindi lo mettiamo da parte neghiamo noi stessi neghiamo i nostri veri desideri e andiamo a cercare cose che altri hanno già fatto che altri hanno già detto che altri percorsi che altri hanno già percorso nel tentativo di consolarci ok e di non essere diversi ma di essere accettati ed amati in quanto uguali ok quindi il mio lavoro non è quello strettamente di insegnare fotografia ma attraverso una serie di percorsi aiutare le persone ad accettare che vedono in quella maniera che sono così che il loro percorso è quello che le loro radici sono quelle che non c'è bisogno non so come dire che il successo non deve essere qualcosa che ti impedisce di guardare te stesso questo desiderio non so se riesco a spiegarvi molte volte potrei dirlo in modo più banale alle volte venivano specialmente un tempo venivano ragazzi da me col book perché con le foto di moda ok allora mi facevano vedere queste foto di moda ma dei vestiti si vedeva lontano un miglio che non gliene fregava niente e queste ragazze che dovevano interpretare questa moda erano sempre molto più discinte che vestite allora io gli dicevo ma se a te piacciono le donne nude ma fai le donne nude cioè perché devi fare finta che fai il fotografo di moda se è ovvio a tutti che è l'unico tuo interesse e fai delle foto di donne nude c'è niente di male è una cosa bellissima facendola accetterai te stesso e sarai felice magari diventerai anche un ottimo fotografo di nudo invece che un mediocre fotografo di moda non so se ho fatto un esempio un po' così buttato lì ma insomma per cercare di essere un po' pratico nel è perfetto non solo si capisce chiaramente ma chiaramente stimola in una direzione che sarebbe un sogno venisse percorsa e applicata da tutti i fotografi professionisti che essendo professionisti perdono per stare l'amore che avevano quando tutti si è stati amatori e quando si era foto amatori si poteva sperare di avere il proprio mondo fatto traboccare e raccontato attraverso l'immagine mentre invece da professionista sposato da 30 anni il rischio è quello di tentare di spremere un po' di contenuto dalle immagini che il caso ci porta ci porta fare sarebbe fighissimo che ciascuno di noi preparasse un suo manifesto su una paginetta manifesto di pensiero di sentito di percepito e su quel manifesto costruisse la propria professione o la reinventasse se è già costruita ma per esempio io il percorso che ho portato oggi è uno straordinario percorso di costruzione perché è tutto come potete come penso sia visto è tutto basato come dire su delle cose semplicissime anche da fare come dire ma soprattutto è basato sull'idea che la fotografia è un modo di interagire con la realtà tra l'altro in un ruolo di testimonianza che è straordinariamente privilegiato devo dire che quando tu dici foto amatore beh che bella parola è foto amatore cioè è una parola bellissima perché contiene la foto e l'amore per la fotografia non c'è niente di male anzi mi verrebbe da dire che io spero di conservarmi a lungo foto amatore o se non di non conservarmi a lungo di cambiare mestiere ecco perché la grande privilegio di operare con la fotografia è quella di avere un posto di testimone nel mondo che è estremamente privilegiato perché come si è detto un sacco di volte e nel frattempo mentre dico questa cosa di cuscino invito a alzare la manina o a chiedere la parola in chat per dire qualche cosa la fotografia ha l'enorme privilegio di essere il modo con cui si comunica che non chiede permesso mentre il cinema nella produzione di un video la produzione di un video richiedono che chi vede sia consenziente e dedichi del tempo mentre un libro scritto richiede del tempo per essere letto mentre un concerto richiede del tempo per essere ascoltato e sempre ciascuno di questi mezzi di comunicazione presuppongono per avere questo tempo il consenso da parte del recipiente invece la fotografia in maniera sottilmente bastarda non chiede nessun permesso nell'istante in cui si manifesta ecco che è già passato tutto che bello mi hai spiegato perché io odio chiedere permesso io non chiedo mai permesso di fare le fotografie le faccio e basta quando vedo qualcuno che chiede poi l'ho fatto anch'io per carità ma non mi piace perché la fotografia è un gesto di enorme arroganza ma non c'è niente di male nell'arroganza purché sia un'arroganza di cui siamo consci e consapevoli come dire e di cui come dire ci assumiamo anche le conseguenze cioè in fondo per me la fotografia è un gesto di grande arroganza perché delimita talmente fortemente il mondo in un micro come dire spazio e noi diciamo ecco questo è il mondo più arrogante di così è difficile Pino leggiamo dal tuo nome che usi un iphone sì 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 sono con l'iphone oggi volevo chiederti una cosa riguardante mi si sente? sì sì volevo chiederti una cosa riguardante però il fattore della vita e della tua vita soprattutto quella fotografica ti hanno insegnato più le sconfitte e perché o più le vittorie perciò le soddisfazioni e perché perché poi tutti noi passiamo dei momenti in cui siamo molto molto down molto bassi e non si riesce a riuscire fuori da questo questo momento oppure dei momenti di grande euforia perché riusciamo a fare qualcosa di molto bello perciò nel tuo percorso che è molto importante e molto molto forte diciamo da questo punto di vista volevo capire questi due passaggi come l'hai vissuti e in che modo ne sei riuscito su uno e l'altro grazie grazie di questa domanda allora è veramente interessante perché diciamo vorrei poter rispondere come in un libro di questi zen che ho imparato più dalle sconfitte che dalle vittorie eccetera eccetera no io non ho imparato un cazzo mai da niente nel senso che credo invece sia più vero nel mio caso che si pesta sempre due volte la stessa merda c'è un altro detto cioè cosa mi sono reso conto nel tempo effettivamente è un tempo un po' di per me di come dire di bilanci sto scrivendo un libro diciamo un'autobiografia delle mie immagini cioè come nascono in quale territorio psicologico mentale reale le fotografie nascono e naturalmente ho dovuto affrontare il capitolo degli errori e tra l'altro capitolo degli errori che mi ha bloccato cioè praticamente quando sono arrivato a quel capitolo lì non sono più riuscito ad andare avanti perché mentre all'inizio ho pensato ah devo raccontare quell'episodio poi quello poi quello poi ho scoperto che invece non è questione di episodi qua è uno sbaglio cosmico generale che però è come dire il continuo credo che è il più grande errore che però io effettivamente non posso assumermi perché non l'ho fatto quasi mai i miei errori sono altri poi ne possiamo anche parlare diciamo che la mia grande capacità che mi assumo e di cui mi dico complimenti bravo è stato sempre di mettermi in gioco personalmente diciamo senza mai come dire riposare su degli allori di quello che ho ottenuto eccetera eccetera anzi in realtà i grandi riconoscimenti grandi a parte che io non è che abbia ricevuto questi grandi riconoscimenti ma i riconoscimenti che ho avuto mi hanno come dire quasi scaricato in termini di energia no tipo mi davano una sensazione di stanchezza no invece quando mi sono ho avuto la capacità non tanto di fallire ma quanto di mettermi in gioco quindi personalmente cioè di fallire ecco perché questo allora scusatemi perché magari io salto un po' di pala in frasca cioè questa questione del fallimento è una cosa che va assolutamente affrontata nella fotografia perché noi dobbiamo assolutamente fallire noi dobbiamo perdere migliaia di fotografie altrimenti cosa succede che viviamo in quel territorio di confortevole dove tutte le fotografie sono buone e nessuna è straordinaria nessuna esce incomprensibilmente dalle altre ma come dire esercitiamo con la fotografia il massimo controllo dell'imprevisto ok allora questo è uno dei più grandi danni che possiamo fare a noi stessi come fotografi cioè non galoppare sull'orlo del precipizio ma nella placida come dire nei placidi campi di mezzo no cioè una volta devo dire che forse la fotografia analogica era per sua natura più portata a essere sempre un po' come si dice in inglese on the edge cioè sul bordo no cioè era anche facile che le fotografie non venissero no non avevi la certezza mai matematica di avere in mano le tue fotografie oggi con la fotografia digitale abbiamo continuamente questo controllo operiamo continuamente questo controllo del risultato che ci porta come dire a non sbagliare a non metterci a rischio e a dire ce l'ho senza esplorare come dire senza partire in una vera esplorazione del mondo ma piuttosto partire a dire il mondo guarda è proprio come lo pensavo io grazie 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 a te stupendamente lucido Tony comunque volevo consolare Pino perché io avendo a che fare con tantissimi colleghi tutti i giorni vi riporto da Portinaio che il 90% buono dei colleghi fotografi sostanzialmente è bipolare chi più chi meno però questo alternarsi di senso di frustrazione di fallimento completo e di esaltazione eccezionale fa parte del bagaglio che evidentemente la natura ha correlato con i mestieri creativi non so quale uno quale uno quale sia genesi e quale generato però però è così nella maggior parte dei casi poi ci sono persone perfettamente sane di mente e non si capisce essendo sane di mente perché abbiano fatto i fotografi però sì appunto beh poi c'è molta letteratura no Avedon che perde il contratto non so con Vogo Bazzar cammina di notte disperato pensando oddio non so se è Peno Avedon che disperato nella notte sotto la pioggia pensa oddio tutto è finito e tu pensi no ma veramente cioè quindi sì un'altra manina da Marco vai Marco che non ama fare domande no ma se non parla nessuno sennò possiamo no no ma volentieri abbiamo anche Olivero Toscani Tony e ho visto forse anche Benedusi e non fargli domande è da delinquenti oggi eh certo domanda che ha detto ieri Benedusi di fare a Tony a sto punto che c'è anche i Toscani lo ha detto anche a lui ricordi ieri ci siamo un po' capigliati su ricordi stampati qualcuno va a dire vabbè lo so fare tutti ma in realtà non è vero cosa c'è dietro questa iniziativa e soprattutto il suo successo che ha per cui la gente fa la fila per venire a farsi fare io come dico una fototessera di alto livello perché ieri Benedusi ha detto c'è un'alchimia che si crea nei due minuti in cui la persona arriva da quando arriva e quando mi si scatta la foto poi c'è stati un po' di mischieri e ci siamo accapigliati contro di lui e quindi alla fine non ne siamo venuti a capo ma visto che oggi mi sembra si sente tutte e tre oserei chiedere questo allora guarda ovviamente questo qui sembra come dire la tematica quella infinita no perché qui mi vengo in aiuto da solo con questo libro che consiglio a tutti Think like a horse forse è il più straordinario manuale di fotografia di ritratto basta sostituire la parola cavallo la parola soggetto e qui c'è la risposta a tutto la risposta per esempio di questo cowboy che è di mestiere a destra a cavalli ma di fatto come dire insegna poi attraverso l'addestramento di cavalli tematiche come l'empatia e la leadership mi permettono di dirti per esempio questo prima di questo pensando a questa domanda pensavo ma come faccio a spiegare questo che mi chiederanno allora provo così poi dopo magari non ci riesco allora io vado a cavallo da 45 anni ok non sono pochissimi vado bene a cavallo vado bene a cavallo cazzo ci vado da 45 anni ok ora come mai eccolo qua ok grazie ok come mai il cavalcante da cui vado a cavallo tutti i sabati o i venerdì va a cavallo da molto meno tempo di me un ragazzo di 30 anni e anche lui va benissimo a cavallo cioè lui non va a cavallo come me lui fa un'altra cosa una cosa che si può imparare ma non si può insegnare che è la questione del che lo chiama qua il Grant Golliher il feel cioè quello che tu senti ora questo che tu senti dice dove si impara non si impara cioè si impara ma non si può insegnare cioè io non potrò mai dire a voi a chiunque dall'alto della mia capacità di fare ritratti che non ha niente a che vedere col modo con cui vado a cavallo ok cioè io vado bene a cavallo ma non sono un cavaliere ok come mai non lo sono perché non ho sviluppato in questi 45 anni una maniera di andare a cavallo che è prioritaria per me rispetto a tutto il resto della mia vita l'ho fatto nella fotografia ok mentre questo ragazzo di 30 anni quando sale a cavallo sale come me fa tutto come me ma fa un'altra cosa perché lui ha sviluppato l'unica cosa che gli interessa veramente è la relazione con quel cavallo ok quindi lui cerca di spiegarmi come si fanno le cose ma io lo so ma come mai la sua esperienza equestra è completamente diversa dalla mia perché c'è di mezzo l'umiltà ma non la mia di quello che non sa un cazzo la sua di quello che sa tutto cioè noi come dire ci aspettiamo è troppo facile essere umili non sapendo un cazzo ok io come cavaliere sono presuntuoso lui come cavaliere vero è umile quando tu tornando alla perdita quando tu lavori nel prendere non sai perdere ed è questa la differenza che fa sì che l'esperienza del ritratto diventa indimenticabile ok oppure diventa un'esperienza come un'altra ma io tratto benissimo il cavallo il mio cavalcante in fondo non li tratta così bene ma i cavalli avevano lui non me cioè che cosa che ha lui il fil cioè ha il verso come si dice forse in Toscana o dove non so cioè ha il verso cioè interagisce con il suo pari con il suo soggetto con il fil e questo fil è come dire qualcosa che tu porti avanti tutta la vita ma non come qualcosa che vuoi avere ma come qualcosa che vuoi perdere quando abbiamo capito questo abbiamo capito tutto perché tutti i fotografi che mi dicono che sanno prendere un ritratto ne sono convinto ma sanno darlo sanno sanno perderlo sanno affrontare questo nella perdita assoluta e nel fallimento più totale toni i tuoi silenzi graffiano l'anima e motivano motivano messaggi di amore in chat posso si può posso intervenire sei eugenio ciao 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 toni ciao piacere di rivederti sei magistrale veramente come sempre sei stato chiarissimo e come dire mi sento solamente visto che anche Marco ha fatto come dire ha citato l'intervento di Settimio in realtà Settimio poverello è stato massacrato l'altro giorno a mio avviso anche ingiustamente ha provato a spiegarlo tu sei è sempre giusto massacrare Benedusi è sempre giusto sì sì è sempre giusto ma lui piace fondamentalmente a lui piace ci rimanerebbe malissimo no perché se no la terra è piatta lo dico per tutti gli altri come dire dell'associazione la verità è che lui Benedusi ha fatto incazzare gli associati tu ci fai piangere per vari motivi come nei tuoi workshop qui tutti in lacrime però diciamo fondamentalmente Settimio ha detto ha detto quello che hai detto anche tu tu hai una capacità veramente unica nel sono talmente radicate nella tua anima le cose che dici hai elaborato tutti questi concetti tutta una serie di ragionamenti sei veramente un intellettuale della fotografia forse il più grande però Settimio ha detto le stesse cose che hai detto anche tu in realtà è stato capito in parte poco è stato frainteso Settimio ha un modo di fare che sicuramente è molto più arrogante del tuo arriva a gamba tesa a volte fa le sue sparate è il suo modo come dire è il suo modo di fare comunicazione di fare di essere in pubblico si sono tutti incazzati e chiudo perché come dire si sono sentiti ci siamo sentiti lui ha fatto un esempio di un fotografuccio che stava lì lo so so tutto perché un'altra cosa che Benedusi dice di cui invece ha assolutamente ragione è che io so tutto infatti è vero però ma è vero se non altro lo sai di adesso sai tutto non c'è la richiesta però è sempre tutto lo sai so di cosa parla so tutto tutta la faccetta ma infatti potresti essere il suo perfetto frontman esatto e farebbe farebbe incazzare molto meno ripeto è il modo di entrare a gamba tesa però fondamentalmente il fatto che ognuno debba trovare la propria strada e non faccio l'esempio dei matrimoni perché cazzo fate i matrimoni se i matrimoni non vi piacciono c'è ragione quello che hai detto tu adesso cioè perché intraprendere delle strade che non ti convincono che non ti piacciono che non che non senti nel profondo solo in quel modo potrai fare la differenza solo facendo e seguendo la tua strada fino in fondo qualunque essa sia e tu la sei allora sì credo di sì e questo però non sembra così chiaro cioè perché a me sembra chiaro ma tu ti sembra leggerlo sembra chiaro il problema forse è che diciamo a me ho scelto diciamo a un certo punto ho scelto di comunicare in positivo ma in negativo dopodiché magari tra me qualcun altro alla domenica con un barbecue possiamo anche ridere di un fotografo che sta lì col flash terrore a parte che sono sincero a me mi fa ridere nel senso a me mi fa ridere cioè non mi fa ridere così tanto nel senso che penso ma io che cazzo ne so cosa stava cercando di fare quindi però senti non solo ma è vero che l'esperienza la tua la sua la vostra l'esperienza dei più grandi mettila così è arrivata scremando togliendo voglio dire Benedusi ha fatto tutte le prove possibili immaginabili in studio con cento flash pure lui ha portato dei modelli in esterno con i flash pure lui poi a un certo punto ha ma io ti dico un'altra strada vorrei dire però di più perché come tu la racconti è bello ma io vorrei aggiungere qualcos'altro cioè è vero io o se Timio abbiamo fatto le prove con i flash quindi come dire come quello là poveretto no semplicemente ma però io ti direi che abbiamo fatto questo non importa perché quel fotografo ha tutto il diritto di fallire totalmente le sue prove luci non potrà che fargli del bene allora il punto però è che quello che alle volte non si capisce è che sia settimio che io che tutti quelli che si assumono e si arrogano diciamo la capacità di creare un'esperienza indimenticabile con la fotografia noi abbiamo fatto esperienze indimenticabili ma terribili cioè voglio dire hai affrontato di fallimento noi io sono partito con la mia ragazza per Firenze per fare i codi stampati li facevamo a 50 euro la 4 la cosa tragica è in un posto di merda al mercato centrale gli spifferi meno 10 gradi cioè ma questo tre anni fa cioè ero già abbondantemente Tony Toime e direi con il cappotto non veniva nessuno e per 15 giorni non è venuto nessuno 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 ok quindi non eravamo a New York forse non hai capito con le limousine con i flash e tipo le cose capito al caldo negli studi super studio eravamo nella merda nella merda più totale perché mentre non arrivava nessuno ogni giorno la tenda le hostess la cosa le per e per e l'airbnb e tutto quanto costava quindi noi pensiamo ragazzi ma cosa sta succedendo quando poi ha incominciato a funzionare peggio mi sento non c'era più la carta boh piglia la macchina buca la macchina sulla FIPILI nel tentativo di andare a montare per i giorni a cazzo comprare una scatola di A4 della Ilford cioè ma poi dopo è chiaro vuoi raccontare questo? no noi raccontiamo che è questo che è questo che è questo che è questo ma non è così cioè è così solo perché tu che ti chiami in un certo modo che hai fatto un percorso che hai preso le limousine a un certo punto non le prendi e vai a cercare una risposta a qualcosa ma io questo non mi voglio fare bello di questo però noi non dobbiamo neanche farci brutti di questo una delle cose che più trovo ingiusta e non vera è quando si immagina che il fatto di aver fatto un certo percorso ti semplifica la vita non ti semplifica niente la fotografia come il cazzo di cavallo che tu vai a domare tu non lo sai com'è quel cavallo quel cavallo che può pure ammazzare se non stai attento il problema è che tu entri dentro in quell'arena in quel territorio del ritratto se ci entri sapendo cose tu ne escerai sempre con una foto mediocre tu devi entrare in quell'arena non sapendo niente cancellando completamente quello che tu sai quello che hai pensato quello che hai voluto credere quello che ti hanno detto quello che le copertine dell'uomo che hai fatto beh non ti servono a niente lì a niente potresti raccontare le storie di quando fotografavi Gianni Versace o Stallone che è un po' forse come dire questo quello che stai dicendo sì ma la cosa interessante arrivavi non sapere no ma la cosa interessante è che tutti sono l'altro da te ma noi vogliamo prenderlo noi vogliamo prendere perché vogliamo noi fare il ritratto noi fare il bel ritratto noi vogliamo tutto noi in più vogliamo pure i soldi vogliamo il ritratto vogliamo fare i figli e in più c'è devi pure pagare hai ragione hai ragione uno dice sei scemo ma va a fanculo o no cioè voglio dire c'è proprio è come se il mondo fosse alla rovescia capito invece dobbiamo ristabilire ristabilire come dire una sensazione di perdita di vuoto non di pieno questa è la chiave sono d'accordo grazie Eugenio grazie Tony grazie a voi grazie Eugenio grazie in chat Angelo Orefice che chiede di intervenire eh sì perché non trovavo la manina nel mio nella mia schermata buonasera a tutti mi sentite sì buonasera Tony io volevo solo portare una breve esperienza ma perché ho avuto la fortuna di fare qualche mese fa l'esperienza di One Shot con Tony a Napoli e devo dire la verità è stato qualcosa che mi ha letteralmente risvoltato come un calzino cioè ma proprio una giornata passata con lui è stato essere decostruito e ricostruito eh aver avuto la sensazione al di là della della grandezza di un personaggio che non voglio stare qui a sottolineare perché non sarei solo l'ultimo in ordine di tempo a parte l'umiltà nel fermarsi con noi anche ben oltre l'orario di quell'esperienza fatta assieme io ho visto una semplicemente una persona che ha preso me e gli altri dieci colleghi in grosso modo che hanno avuto modo di fare questa esperienza è aperto il cancello di un recinto dentro il quale noi che facciamo questa professione molte volte ci chiudiamo da soli lui ha semplicemente aperto questo cancello ovviamente detta così può sembrare semplice ma in realtà è stata una giornata molto molto vissuta bisogna un po' scardinarlo il cancello assolutamente lo sto dicendo il finale può che si apre così facilmente nel senso che io ti diciamo sto riportando in maniera molto sintetica il finale per non dilungarmi pure perché poi non voglio spoilerare quella che è l'esperienza che si fa con te chi non l'ha fatta è giusto che l'ha fatta è giusto quindi in linea di massima la sensazione finale è stata proprio questa cioè lui ci ha aperto questo cancello che come ha detto giustamente ha dovuto in qualche modo forzare per aprirlo ha detto le cose più belle della fotografia stanno oltre questo recinto dentro il quale tra le altre cose vi siete chiusi da solo non va chiuso nessuno e io vi posso dire che può essere una frase fatta cioè da quel momento anche la percezione delle mie foto da parte dei clienti da parte di chi semplicemente commenta un mio scatto è completamente diversa cioè io l'ho proprio vissuta sulla mia pelle lui ha proprio cambiato la mia percezione di essere fotografo non di fare le fotografie io sono riuscito ad assimilare questo concetto di dare piuttosto che di prendere abbiamo parlato un sacco di cavalli di tori voi voi però è questo la cosa più grande io stasera mi sono voluto ritagliare 10 minuti perché glielo volevo dire nel senso che proprio glielo ho scritto anche in privato ma volevo proprio portare anche questa mia di esperienza tutte quelle che possono sembrare chiacchiere filosofiche dei grandi no vabbè è facile lo dice Beneduzzi lo dice Toscano perché loro in realtà sono tutte poi esperienze che ognuno di noi può fare cioè bisogna solo deciderlo di fare in che direzione io voglio fare questo lavoro che direzione voglio andare vi voglio lamentare del fatto che ci sono gli abusivi che si vende poco o voglio cercare la mia strada andando oltre questo recito questo è il regalo più grande che mi ha fatto Tony Torinbert e io gliene sarò grato a vita e ci tenevo veramente tanto a condividere con voi questa cosa e a fare arrivare anche a lui che sicuramente di queste soddisfazioni ne avrà tantissime da parte dei suoi allievi ma io ci tenevo particolarmente a dirlo grazie un abbraccio a tutti quanti grazie grazie mille 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 grazie mille eh no beh allora diciamo a parte tutti i ringraziamenti complimenti che fanno ovviamente piacere è bello come dire bellissimo mi è piaciuto quando hai detto cioè quella cosa lì esiste cioè c'è una fotografia dove noi ci confiniamo poi tu apri e c'è veramente quella roba là ma fin tanto che tu stai nel recinto non lo puoi sapere devi fare un atto di coraggio sì questo sì va fatto c'era sempre in chat parte Maria grazie che ringrazio ringrazio il ringraziamento angelo refice no ecco Sabrina che chiede vabbè vabbè pragmatico ciao Tony potresti raccontare come avete fatto a farlo funzionare quelle nell'episodio che raccontavi dei 15 giorni dei 15 giorni ah come abbiamo fatto a farlo funzionare soffrendo soffrendo come dei coglioni come degli imbecilli non sapevamo neanche sembra che non facciamo manco i fotografi avevamo delle stampanti ridicole facevamo pena ma ci abbiamo messo la faccia cioè io dico sempre per fare una foto decente sempre in ginocchio ti devi mettere ok perché ti ci devi mettere in ginocchio non puoi stare seduto in piedi a fare il predatore ti devi mettere in ginocchio cazzo perché la grande disgrazia della fotografia sono i predatori fotografi che dall'alto del potere che quel simulacro di arma che è la macchina fotografica vogliono vogliono ammazzare la gente per cosa guadagnare i soldi fare carriera essere famosi e non ce la puoi fare è impossibile fine fine non c'è l'escamotage l'unica cosa che puoi fare è metterti in ginocchio poi quando esci la sera in inaugurazione e tutto così no non devi stare in ginocchio mica devi stare sempre in ginocchio ma quando devi fare quella cosa là sì che devi stare in ginocchio è chiaro destabilizzantemente chiaro senti prima di ripassare la parola a Marco c'è sempre in chat chi era è possibile Roberta che chiede è possibile sapere quando ripeterà One Shot One Shot viene organizzato da delle realtà locali ok quindi chi vuole organizzarlo mi scrive e io come un non so cos'è vado in tournée io vado faccio e torno a casa quindi io non l'organizzo mai One Shot va organizzato on demand on demand esatto Marco domanda che poi potete anche linciarmi ma ricordi stampati potrebbe funzionare senza fotografo ovvero sia arriva la persona e dice tieni questa è la peretta per farti l'autoscatto fine sarebbe sì perché no sarebbe una cosa diversa poi cosa si fa un bonifico a se stesso no lo fa sempre a noi ma un'idea è favolosa scusa ti metti a disposizione la tua presenza fammi capire questo fammi capire questo ma come mai adesso dico la tua demanda è più che legittima anche se un po' così provocatoria divertente ma come mai togliere il gusto cioè io non vorrei mai farlo perché io ci godo ad entrare in quell'arena cioè non so come dire mi fa paura tutte le volte ma è quello che mi tiene vivo che mi fa essere un fotografo io non c'è niente come i miei partecipanti ai corsi di fotografia specialmente one shot e poi penso ragazzi ma se a me non piace fare le foto possiamo anche fare qualcos'altro cioè se fare le foto non è quello che ti piace che ti esalta che ti mette in difficoltà come diciamo come una relazione amorosa anche no? non va tutto liscio sempre no? devi aggiustare le cose però è l'amore no? che muove tutto questo circo adesso tu mi dici perché non date una peretta che così diventa un atto masturbatorio del soggetto ma perché? è un'altra storia non importa noi stiamo parlando di relazioni non stiamo parlando di stare a casa a guardare un porno capito? sono due cose diverse si possono fare tutte e due per carità non c'è peccato ma sono due cose diverse posso rispondere a Marco? sì certo ce l'ho fatta farlo intervenire ragazzi grazie ma tu la peretta la puoi usare quando vuoi non solamente per fare l'autoritratto allora ho seguito la storia di Benedusi e la storia dei ricordi stampati cioè il fatto che una percentuale di voi non capisca la differenza tra fare ritratti e fare ritratti è molto grave tu parli di fototessera il fondo è fare una fototessera hai ragione il fondo è fare una fototessera no? se la vuoi semplificare così in realtà è strano per esempio nel gruppo dei ricordi stampati c'è Tony c'è Settimio ci sono io che facciamo questi ritratti e ti posso garantire che sono diversi uno dall'altro cioè già noi che abbiamo bene o male messo insieme un certo modo della filosofia di questo ritratto i ritratti sono diversi molto diversi non hai mai non hai mai pensato cosa produce questa diversità forse è il suo di tutto il tuo lavoro quando Tony dice se cercate il consenso sarete una bella coppia di qualcun altro forse è meglio essere una brutta coppia di se stessi ma almeno si è se stessi perché non puoi essere meglio di quello che sei non puoi essere meglio di quello che sei tutto qua allora è strano è molto deludente devo dire che questo ha fatto incazzare benedosi che voi non capiate cosa vuol dire avere uno stile una classe un punto di vista una filosofia nell'analizzare la persona che ti sta e non soprattutto nel farsi analizzare come dice lui di avere questa umiltà di farsi fotografare e mentre quello là ti fotografa capirai che personalità allora ragazzi o capite la differenza delle cose o se no non c'è speranza no allora il problema è Oliviero tu hai ragione infatti sottolinei cose di cui stiamo parlando il problema è che capire con la testa è difficile tu che sei sei e sei stato un cavaliere sai bene che fin tanto che stai con le braccia appoggiate al recinto sembra facile salire su quel cacchio di cavallo ma poi quello parte al galoppo cioè se tu non vivi quell'esperienza come dire con il rischio di cadere e anzi come dicono gli arabi cadere sette volte da settanta cavalli quell'esperienza equestre visiva di guardare un cavallo che gira in un recinto serve a ben poco allora che cosa succede che la grande problema secondo me di questi tempi diciamo digitali è la difficoltà di noi tutti umani di mettere in gioco noi stessi in modo tridimensionale cioè non in modo mentale ah sì ho capito sembra come dire ah no ma io sì sì cioè ho capito come funziona potrei fare un esempio peggiore io vado in moto in pista no guardo che girano poi dico sì sì no ma ho capito adesso metto la tuta e vado anch'io ma mazzo giusto cioè bisogna fare un percorso per arrivare a quella cosa lì cioè non è che tu entri e ti fai male allora perché questo percorso le persone non vogliono farlo perché hanno il culo parato dalla paura di svelare e se stessi ha ragione l'oliviero dice in realtà tu fai la foto a uno che te la sta facendo la foto te la sta proprio facendo perché ricordatevi noi guardiamo gli altri ma gli altri guardano noi allora mi domani uno si deve chiedere ho abbastanza carisma per farmi guardare in modo interessante o non ho proprio nessun carisma per questa ragione i ritratti che faccio sono così banali forse i ritratti sono proprio banali perché chi li fa non ha nessun carisma sì però detto così oliviero sembra che uno è condannato a non averlo nessuno è condannato nessuno è condannato a non averlo il problema è che devi stellare il cavallo e salirci so ma non è obbligatorio fare il fotografo è già un privilegio scegliere di far questo no infatti non è obbligatorio tanto è che spesso io lo chiedo ma ragazzi voi avete voglia di cioè una scelta uno dice faccio il fotografo una scelta vuol dire che ha qualcosa da dire o no beh sì certo però quello che ha da dire bisogna che lui lo impara a riconoscere perché appunto è molto difficile specialmente per i ragazzi più giovani oggi accettare i propri desideri perché siamo in una società in questo momento molto compressa molto molto puritana molto molto come dire media capito sì ma ti devo dire una cosa che mi ha dato molto fastidio in questa storia di Benedusi dell'altra sera che il povero Benedusi con la sua generosità si è preso dal presuntuoso quando i presuntuosi sono quelli che l'hanno accusato di presunzione vabbè ma questo è credibile è lo yin è lo yang è normale i presuntuosi sono i mediocri ricordatevelo bene i mediocri sono tutti presuntuosi certo ma questo ma questo ci sta però fa parte anche questo fa parte del percorso di crescita delle persone cioè nel senso che secondo me non so se tu ti sei mai reso conto io per esempio ogni tanto sono presuntuoso ma quando lo sono in modo sbagliato sto male dopo mi sento male no perché hai capito che c'è qualcosa che non va capito ti difendi di una situazione diversa comunque un conto dai vabbè lasciamo perdere questa sola presunzione perché proprio non sanno forse tanti non sanno la fatica la fatica che c'è nell'impegno delle cose vabbè abbiamo due mani lì che alzano io adesso devo andare ragazzi vi saluto Oliviero grazie mille a presto grazie Matteo Matteo De Vita ciao De Mattia non ridete De Mattia non ridete spero mi sentiate bene perché ho queste cuffie nuove che non sono proprio condizionantissime bene se mi permettete io non torno su questa discussione ampiamente sviscerata perché non ne conosco i presupposti quindi lascerei lì però è interessante ho trovato molto interessante che in fondo i punti di vista sono complementari e tutto quanto poi ritorna alla relazione nella ritrattistica tra chi fa tra chi agisce e chi è agito e chi è agito al tempo stesso agisce e allora volevo dire che succede per esempio per rispondere a Marco che prima diceva della persona che si fa mi pare forse Marco e forse Sander che diceva di dare la peretta in mano a chi si può e fa la foto a me è capitato facendo matrimoni alcuni che ho fatto perché mi sembravano situazioni interessanti anche di montare per esempio quello che in inglese si chiama il photobooth cioè la macchina fotografica con il suo flash le persone vanno lì e si autoscattano e poi a posteriore quando ho dovuto mettere insieme il mio punto di vista con invece l'autopunto di vista di chi si è fatto la foto che spesso non era una persona sola erano ritratti di gruppo dove le persone già si conoscevano quindi non avevano dovuto saltare un sacco di passaggi come era toccato a me che mi trovavo lì dopo solo aver insomma discusso con gli sposi per pochi giorni come effettuare il documento fotografico ho visto punti di vista che a me non sarebbero stati accessibili se non avessi montato quel giocattolo e le due cose insieme hanno un po' completato il lavoro e hanno fatto riflettere me su come io mi relaziono con il soggetto della fotografia perché caspita non avevo pensato a quel punto di vista non avevo pensato a quell'emozione che quella persona mi dà un po' per l'incapacità mia di riuscire a recuperare questa emozione a darmi come dice Tony a chi è soggetto della mia foto che diventa in realtà fotografo e un po' perché non è che se uno strumento sembra meno diciamo filosoficamente accettabile debba per forza essere peggiore che si può prendere anche da questo adesso non farò più il photobooth perché è un costo perché ci vuole qualcuno che ci stia dietro però ho trovato che le due cose si complementino e questo volevo farlo solo come insomma condividere con voi una riflessione ma avevo una domanda per Tony rispetto all'uso del bianco allora ho compreso i tre mondi che tu ci hai ci hai mostrato in queste cose e per gli studi di colore che ho fatto io a me il bianco è sempre stato insegnato come una cosa che estrae dalla realtà isola tira fuori tutto cioè tutta l'attenzione poi è focalizzata sul punctum della foto che stai guardando allora la mia domanda è il bianco può appartenere a tutti e tre i mondi oppure è inerentemente collegato solo al mondo interiore cioè può esistere un bianco in funzione documentale per il mondo che è lì e che è fuori di noi e che noi possiamo agire facendo la foto possiamo non agire continuando a camminare ma esiste a prescindere da noi cioè il bianco è anche lì funzionale in qualche modo o ci riduciamo a essere noi a metterlo nel momento in cui facciamo una foto di ritratto per esempio in cui posizioniamo il soggetto di fronte di fronte al bianco cioè com'è? Ma è molto interessante questo e devo dire io per esempio veramente come oggi ho sviluppato la mia la mia progressione il bianco lo metto come momento di separazione tra i tre atteggiamenti del fotografo e i tre mondi che il fotografo può esplorare perché il bianco è come se stesse in un limbo appunto a sé stante ok? Si dice limbo no? Cioè il bianco fa storia a sé ma già se per esempio io l'ho notato alle volte do da fare degli esercizi sul bianco qualcuno mi porta che c'è una piccola ombra sullo sfondo già non è più bianco cioè già entriamo in uno di quei compiti precedenti o successivi mentre il bianco bianco il bianco il nulla il limbo è un'esperienza a sé stante è un'esperienza che io tendo a dargli il nome è un'esperienza di potere cioè né il soggetto né il fotografo hanno un appiglio cioè sono costretti a confrontarsi con i propri limiti ma dove il limite è anche il limite fisico cioè sul bianco risalta immediatamente il tuo limite fisico così come tu fotografo il tuo limite nell'interazione con il tuo soggetto risulta come dire megafonato no? cioè io dico sempre oh sarebbe meglio che davanti a sto bianco succedesse qualcosa può anche non succedere nulla ci mancherebbe altro ma come metafora diciamo della necessità che il bianco ti porta a questionare te stesso su qual è il tuo gesto artistico che cos'è il tuo segno di cosa ti vuoi occupare cosa metteresti davanti a questo bianco il bianco è più un punto di domanda no? mentre gli altri sono affermazioni tre atteggiamenti tre mondi in mezzo c'è un punto di domanda che è anche come dire specchio della assoluta ambiguità del mezzo fotografico no? perché ti dice ma sempre non ti dice cioè se tu immagini che quando vedi il bianco appena dopo non c'è il bianco dopo un metro dopo tre metri dopo cinquanta metri ma il bianco non è ovunque è una scelta ok ok grazie grazie a voi grazie mille guarda molto interessante Roberta Roberta Cimadoro a cui diamo il benvenuto perché so c'è da un mesetto ciao ciao mi sentite? sì io invece volevo chiedere qualcosa riguardo all'autoritratto perché fino adesso non mi sembra che sia stato proprio citato per me fare i ritratti è stato indispensabile cambiare metodo da quando ho iniziato a fare l'autoritratto cioè l'autoritratto è stato un pochino la chiave di svolta nel senso che mi ha dato modo di creare una relazione diversa col soggetto nel momento in cui andavo a fotografarlo era come se vedessi un po' un qualcosa di mio un qualcosa riconoscesse un qualcosa vedevo un po' oltre la persona e quindi volevo sapere la relazione che tu o comunque voi grandi fotografi con l'autoritratto se lo fate e continuate a farlo come lo fate ecco mi piacerebbe sapere un po' questo aspetto perché per me è stato veramente fondamentale lo è tuttora oltre a essere un grandissimo lavoro introspettivo senza dubbio allora grazie di questa diciamo domanda affermazione allora io personalmente ritengo l'autoritratto alla base assoluta di qualsiasi operazione fotografica tanto è vero che in alcuni corsi che faccio il primo fotografo di cui parlo è Lee Friedlander che è un fotografo americano degli anni 60 che attraversa l'America fotografando se stesso riflesso nelle vetrine usando la sua ombra eccetera eccetera quindi usando come dire la presenza del fotografo come motore dell'immagine ok quindi l'immagine funziona in quanto il fotografo dice la cosa più importante di tutte io sono qua cioè io vedo ok quindi io vedo me stesso è straordinariamente importante infatti io durante tutta la mia carriera ho fatto continuamente e faccio continuamente in un qualche modo autoritratti ok poi a momenti eccetera eccetera addirittura una studentessa che io avevo e che faceva dei ritratti come dire che erano giusti come luce come tutto ma nelle pose dei suoi soggetti erano veramente imbarazzanti le ho dato come compito di faressi degli autoritratti mettendosi nelle pose che lei faceva assumere agli altri proprio per fargli capire come dire tipo dai cioè veramente tu vorresti fare una cosa del genere cioè tu la fai fare agli altri ma tu a te stesso lo fare adesso lo sto un po' banalizzando però come dire cioè tu veramente faresti a te stesso una foto così no? quindi in questo senso sia in senso più profondo e filosofico psicologico sia in senso più prosaicamente professionale mi sembra sempre bene partire dal fotografo quindi io sono totalmente d'accordo con te e credo che tutti i fotografi diciamo credo che tutti sono tutte congetture ma ho l'impressione che chiunque stabilisce una relazione profonda con la fotografia non può che partire dall'autoritratti grazie ragazzi che incontro carino articolato con tre momenti si è sviluppato in tre in tre tranche al mio modo di sentire grazie enorme a Tony e a tutti quanti ma a Tony in particolare perché era il relatore quindi chi si è scoperto da parte di tanti essere la bella persona che sei e conseguentemente il grande fotografo che sei grazie grazie davvero grazie a voi grazie a te Roberto apriamo il microfono sono le 8 meno 20 va bene salutarci direi certo apriamo i microfoni e salutiamoci grazie a tutti grazie a tutti a tutti a tutti a cena ciao a tutti grazie Roberto ciao